Tornano a salire i prezzi della benzina e delle gasolie per i consumatori e un pessimo segnale perché i rincari rischiano di avere effetti a cascata sul costo dei beni al dettaglio. Il 20 settembre scade il taglio delle accise, che vale 30 centesimo al litro, e senza nuove misure da parte del governo i prezzi torneranno sopra i 2 euro. Gli italiani comunque quest'estate hanno tirato la cinghia e ridotto i consumi, scegliendo mete più vicine per le vacanze anche per contenere le spese del calo carburante. E infatti, spiega l'UNEM, Unione Energia per la Mobilità, a luglio sono calati i consumi di benzina e gasolio per la prima volta da febbraio 2021 e per agosto la stima dell'associazione è di un ulteriore rallentamento, nonostante il positivo sostegno del turismo interno e internazionale a causa del rallentamento congiunturale delle attività produttive amplificato dalle criticità legate alla crisi russo-ucraina con le attività industriali e delle costruzioni in decelerazione. Secondo le rilevazioni di Quotidiano Energia, il prezzo medio nazionale della verde, in modalità self, è salito a 1,770 euro al litro, 1,766 il dato precedente. Il gasolio alla pompa è invece schizzato a 1,802 euro al litro contro l'1,787 il precedente. Quanto al servito per la benzina, il prezzo medio praticato si attesta a 1,920 euro al litro, 1,918 il dato precedente. Nonostante il governo abbia camierato i prezzi, gli italiani hanno evidentemente scelto di non sperperare e difendere i bilanci familiari dai rincari. A luglio i consumi di carburante si sono ridotte a circa 2,8 milioni di tonnellate, 0,7 milioni di benzina e 2,1 milioni di gasolio rispetto allo stesso mese del 2021, meno 2,6%, pari a 76 mila tonnellate in meno e ai valori di luglio 2019, meno 1,1%, 33 mila tonnellate in meno. Sulla riduzione delle forniture di benzina e gasolio, spiega l'UNEM, incidono anche nuove immatricolazioni di auto a benzina e ibride e la soluzione del parco vetture a motore diesel.